. 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 Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottoressa Grazia Mazza, e-mail, studio.graziamazza-libero.it, telefono, 338 39 5 8 5 2 6. Tribunale di Cosenza, Esecuzioni Immobiliari, 111 fratto 2015, 1. Immobile al piano terra, categoria C-1, negozi e botteghe, formato da soggiorno di circa metri quadri 18, bagno di servizio di circa metri quadri 4, completo di lavandino e WC, stanza di metri quadri 35 con due porte finestre e giardino di metri quadri 15. Superficie calpe stabile metri quadri 57,95, superficie lorda metri quadri 84,94, altezza di piano pari a ml 2,75 dal pavimento all'intradosso del solaio. Sito in, via della Concordia Mendicino, Cosenza. Prezzo base, 37.283 euro e 22 centesimi. Vendita senza incanto, 7 maggio 2019, ore, 15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.28. Luogo della vendita, sala asche telematiche, stanza N. 1, uffici del giudice di pace, in Cosenza, via Antonio Guarazzi, piano V. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Ornella Nucci, e-mail, ornellachiocciolastudiolegalenucci.it, telefono, 0984390739. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 111 fratto 2015, 2. Abitazione su due piani della superficie calpestabile di metri quadri 66,48 e l'orda di metri quadri 92,54, composta, al piano terra da piccolo corridoio, stanza, piccolo vano, bagno, stanza con balcone, al piano superiore, mansarda, da stanza, piccolo vano, due bagni, stanza. Altra stanza con accesso, lato su, a terrazzo coperto con piccolo ripostiglio. Sito in, via della Concordia Mellicino, Cosenza. Prezzo base, 75.924 euro e 75 centesimi. Vendita senza incanto, 7 maggio 2019, ore, 15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.29. Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza N. 1. Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, via Antonio Guarazzi, piano V. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Ornella Nucci, e-mail, ornellachiocciolastudiolegalenucci.it, telefono, 0984390739 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 164 fratto 2008, unico. Appartamento adibito a civile abitazione al piano terzo, superficie complessiva a metri quadri 148,87, costituito da ingresso corridoio, cucina, soggiorno, due bagni, tre camere da letto, quattro balconi. Occupato. Sito in, viale della Repubblica Ex Strada a Bisignano, Cosenza. Prezzo base, 34.836 euro. Vendita senza incanto, 23 maggio 2019, ore, 9. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.22. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maria Teresa Cesareo, e-mail, ad mariateresacesareocchiocciolagmail.com, telefono, 3929318769. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 217 fratto 2011, 1. Fabbricato composto da cucina, soggiorno e sala da pranzo al piano terra e camera da letto e bagno al piano primo. Sito in, via Pianette Montalto Fugo, Cosenza. Prezzo base, 57.583 euro. Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.22. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio Dottor Luigi De Santis, e-mail, antecosenzachiocciolavirgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 217 fratto 2011, 3. Locale posto al primo livello, dotato di servizi igienici, categoria Catastale C barra 2, consistenza metri quadri 55. Occupato. Sito in, via Benedetto Croce Montalto Fugo, Cosenza. Prezzo base, 21.660 euro. Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.22. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio Dottor Luigi De Santis, e-mail, antecosenzachiocciolavirgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 217 fratto 2011, 2. Immobili posti al piano seminterrato e precisamente, piccolo locale ad uso ufficio dotato di bagno e antibagno e ampio locale adibito a laboratorio artigiano con piccolo locale adibito a spogliatoio, bagno e antibagno. Superficie Catastale metri quadri 130. Occupati. Sito in, via Benedetto Croce Montalto Fugo, Cosenza. Prezzo base, 97.618 euro. Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.22. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Luigi De Santis, e-mail, ante cosenza chiocciola virgilio punto it, telefono, 0984408479 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 217 fratto 2011, 4. Terreno, porzione A di qualità Oliveto, classe 2, A00 marzo 2000 e porzione AB di qualità Pascon, classe 2, A00 giugno 60, ricadente in zona agricola e barra 2. Sito in, via Pianette Montalto Fugo, Cosenza. Prezzo base, 1.469 euro. Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.23. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Luigi De Santis, e-mail, ante cosenza chiocciola virgilio punto it, telefono, 0984408479 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 217 fratto 2011, 6. Terreno, qualità Pascon, via 002000, classe U, ricadente in zona rispetto di corsi d'acqua g barra 2. Sito in, via Pianette Montalto Fugo, Cosenza. Prezzo base, 1.148 euro. Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.23. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Luigi De Santis, e-mail, ante cosenza chiocciola virgilio punto it, telefono, 0984408479 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 217 fratto 2011, 5. Terreno, porzione A di qualità Oliveto, classe 2, a 00 barra 20 barra 50 e porzione A B di qualità Semin. Irri, classe 1, a 00 novembre 20, ricadente in zona agricola e barra 2 per metri quadri 2034 circa, zona rispetto di corsi d'acqua g barra 2 per metri quadri 994 circa e zona di completamento B barra 3 per metri quadri 142 circa. Sito in, via Pianette Montalto Fugo, Cosenza. Prezzo base, 4525 euro Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 23 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio Dottor Luigi De Santis, e-mail, ante cosenza chiocciola virgilio.it, telefono, 0984408479 Tribunale di cosenza, esecuzioni immobiliari, 217 fratto 2011, 7 Terreno, porzione a qualità Oliveto, classe 2, A00-22-53 e porzione a B qualità Semini. Irri, classe 2, A00-39-24, ricadente in zona agricola e barra 2 per metri quadri 2387 circa e zona rispetto di corsi d'acqua g barra 2 per metri quadri 3790 circa. Sito in, via Pianette Montalto Fugo, Cosenza Prezzo base, 6.552 euro Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 23 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Luigi De Santis, e-mail, ante cosenza chiocciola virgilio.it, telefono, 0984408479 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 217 fratto 2011, 8 Terreno, porzione A di qualità seminativo, classe 2, A00 dicembre 2000, porzione AB di qualità oliveto, classe 2, A00 luglio 2000 e porzione A.C. di qualità semino. Arbor, classe 3, A00 gennaio 83, ricadente in zona agricola e barra 2 Sito in, via pianeta e montalto Fugo, Cosenza Prezzo base, 3188 euro Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 24 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Notaio dottor Luigi De Santis, e-mail, ante cosenza chiocciola virgilio.it, telefono, 0984408479 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 217 fratto 2011, 11 Immobile posto al piano semi-interrato, categoria Catastale C-6, consistenza metri quadri 55 Occupato Sito in, via Benedetto Croce Montalto Fugo, Cosenza Prezzo base, 21.426 euro Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 25 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Notaio dottor Luigi De Santis, e-mail, ante cosenza chiocciola virgilio.it, telefono, 0984408479 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 217 fratto 2011, 9 Terreno, porzione A di qualità Oliveto, classe 2, A00-27-00 e porzione A B di qualità SEM IR, ARB, classe 3, A00-38-90, ricadente in zona agricola e barra 2 per metri quadri 2286 circa e zona di completamento B barra 3 per metri quadri 4304 circa Sito in, via Pianette Montalto Il Fugo, Cosenza Prezzo base, 23.254 euro Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 24 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Notaio Dottor Luigi De Santis, e-mail, antecosenza-virgilio.it, telefono, 0984408479 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 217 fratto 2011, 12 Terreno di qualità SEM Arbor, classe 3, A00-90, ricadente in zona di completamento B barra 1 Sito in, via Pianette Montalto Il Fugo, Cosenza Prezzo base, 13.121 euro Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 25 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Notaio Dottor Luigi De Santis, e-mail, antecosenza-virgilio.it, telefono, 0984408479 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 97 fratto 2007, 1 Terreno edificabile, qualità ficheto, classe 2 Accesso diretto dalla SP-234, di metri quadri 3600 circa, andamento pressoché peneggiante, forma trapezoidale, buona esposizione, piuttosto pulito con presenza di qualche albero da frutta. Esiste servitù di passaggio che consente accesso al fabbricato di cui hai lotti 2, 3 e 4. Utilizzato dal figlio dei debitori deceduti. Sito in, accesso diretto dalla SP-234, con trada Taverna Luzzi, Cosenza Prezzo base, 117.045 euro Vendita senza incanto, 27 maggio 2019, ore, 10 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 26 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Avvocato Fiorina Avventuriera, e-mail, avavventuriera-gmail.com, telefono, 098584113 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 97 fratto 2007, 2 Appartamento di tipo economico posto al piano terra di un fabbricato per civile abitazione, composto da cucina, stanza da letto e bagno Superficie commerciale metri quadri 40,90 circa Occupato dal figlio del debitori deceduti Sito in, con trada Taverna Luzzi, Cosenza Prezzo base, 10.404 euro e 47 centesimi Vendita senza incanto, 27 maggio 2019, ore, 10 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 28 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Avvocato Fiorina Avventuriera, e-mail, avavventuriera-gmail.com, telefono, 098584113 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 97 fratto 2007, 3 Appartamento di tipo economico posto al piano terra di un fabbricato per civile abitazione, composto da salone, cucina, stanza da letto, bagno e corridoio Superficie commerciale metri quadri 100,50 circa Occupato dalla figlia dei debitori deceduti Sito in, con trada Taverna Luzzi, Cosenza Prezzo base, 36.961 euro e 18 centesimi Vendita senza incanto, 27 maggio 2019, ore, 10 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 28 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Avvocato Fiorina Avventuriera, e-mail, avavventuriera-gmail.com, telefono, 098584113 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 97 fratto 2007, 4 Appartamento di tipo economico al piano primo di un fabbricato, composto da ampio locale Adibito a salone, soggiorno e cucina, tre stanze da letto, bagno, corridoio e quattro Balconi di superficie totale metri quadri 20,60 circa Superficie commerciale metri quadri 150,40 circa Oltre soffitta al piano secondo, raggiungibile da scala interna, costituita da vano adibito A locale deposito di metri quadri 37,70 lordi e restante parte, di metri quadri 120 lordi, Allo stato rustico, occupato dal figlio dei debitori deceduti Sito in, Contrada Taverna Luzzi, Cosenza Prezzo base, 52.007,09 euro Vendita senza incanto, 27 maggio 2019, ore, 10 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.28 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Avvocato Fiorina Avventuriera, e-mail, avavventuriera chiocciola gmail.com, telefono, 098584113 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 241 fratto 2014, unico Villa su tre livelli, su Top metri quadri 350, metri quadri 436 lordi, esclusi spazi aperti, p Terra di metri quadri 195, accesso indipendente, con locali a servizio dell'abitazione, tavernetta, lavanderia, magazzino, legnaia, garage, bagno, cantina dispensa e locale autoclave, p Primo di metri quadri 155 con grande soggiorno, cucina, ampio terrazzo, due bagni, ripostiglio e due stanze da letto, p Secondo di metri quadri 86 a soppalco, con grande salone, tre stanze da letto, bagno e terrazzo scoperto Attualmente domicilio di debitore e famiglia Terreno pertinente all'immobile inteso come area di sedime dello stesso, superficie complessiva di metri quadri 1015, consistenza catastale metri quadri 1210 Sito in, Contrada Malvitani, via Mazzini Marano Marchesato, Cosenza Prezzo base, 348.632 euro e 82 centesimi Vendita senza incanto, 24 maggio 2019, ore, 10 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 34 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 207 fratto 2011, unico Appartamento ad uso abitazione, interior 6, piano terzo, composto da saloncino, cucina, corridoio, bagno e piccolo locale servizio Superficie interna lorda metri quadri 127,82 circa, superficie balconi metri quadri 22,65 circa Locale soffitta al piano settimo, sottotetto, interior 5, consistenza metri quadri 16 Locale garage al piano terreno, consistenza metri quadri 17 Immobili attualmente occupati Sito in, via Venia Parenti, Cosenza Prezzo base, 36.286,96 euro Vendita senza incanto, 14 giugno 2019, ore, 9 e 30 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 36 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 293 fratto 2012, 1 Appartamento in centro storico, al piano secondo di un palazzo che risale alla metà del 500, superficie commerciale metri quadri 197,6 circa, composto da ingresso, salone, cucina, studio, tre camere da letto, disimpegno e bagno Sito in, via del liceo Cosenza Prezzo base, 116.137 euro Vendita senza incanto, 23 maggio 2019, ore, 16 e 15 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 35 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 293 fratto 2012, 2 Locale cantina in centro storico, al piano terra di un palazzo che risale alla metà del 500, metri quadri 14 circa, consistenza catastale metri quadri 12 Sito in, via del liceo Cosenza Prezzo base, 2250 euro Vendita senza incanto, 23 maggio 2019, ore, 16 e 15 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 35 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 73 fratto 2008, unico Stabilimento industriale con annessa corte recintata, meglio descritto nella relazione di stima in atti Libero Sito in, zona industriale piano lago Mangone, Cosenza Prezzo base, 408 mila euro Vendita senza incanto, 23 maggio 2019, ore, 16 e 15 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 36 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Notaio dottor Luigi Dei Santis, e-mail, ante cosenza chiocciola virgilio.it, telefono, 0984408479 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 312 fratto 2013, unico Lotto di terreno di metri quadri 8315 con annesso capannone industriale con struttura prefabbricata in cemento armato di metri quadri 1351 al piano soppalcato 1, di cui metri quadri 217 vincolati all'AS di Cosenza per la futura realizzazione di impianto di depurazione Il capannone industriale necessita di lavori di completamento relativamente all'impianto elettrico ed impianti igienico-sanitari.attualmente liberi e nella disponibilità della custodia Sito in, zona industriale San Marco Argentano, Cosenza Prezzo base, 312.182,71 euro Vendita senza incanto, 27 maggio 2019, ore, 11 e 15 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 36 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottoressa Adriana Beggiamonte, e-mail, abeggiamonte-gmail.com, telefono, 3356300362 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 134 fratto 2001, unico Villino indipendente costituito da piano semi-interrato di metri quadri 94, piano terra di metri quadri 233,45 più portico di metri quadri 103,10, piano primo di metri quadri 177,80 più terrazzo di metri quadri 46,80 Vendita circondato da giardino indipendente di metri quadri 1743,45 Occupato dall'esecutato, verrà liberato in caso di aggiudicazione Sito in, località Santo Stefano, via Svizzera Rende, Cosenza Prezzo base, 375.693,06 euro Vendita senza incanto, 24 maggio 2019, ore, 10.35 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.36 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottor Giuseppe Giacomantoni, email, gius.giacomantoniocchiocciolallibero.it, telefono, 0984465550 Tribunale di Cosenza, Esecuzioni Immobiliari, 314 fratto 2014, 2 Terreno di natura agricola, anche se posizionato in zona urbana, funzionale alle coltivazioni orticole, esteso su una superficie di metri quadri 90 Libero Sito in, Contrada Magli San Vincenzo La Costa, Cosenza Prezzo base, 1.231 euro e 20 centesimi Vendita senza incanto, 13 giugno 2019, ore, 10. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.38 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottoressa Rosa Gargano, email, rosannagarganochiocciolatiscoli.it, telefono, 3398040905 Tribunale di Cosenza, Esecuzioni Immobiliari, 314 fratto 2014, 1 Appartamento civile, superficie di circa metri quadri 89, posto al piano terra, comprende corte esclusiva di circa metri quadri 185, sub 14, composto da quattro stanze, due servizi igienici e cucinino di piccole dimensioni Locale garage adiacente all'appartamento, superficie circa metri quadri 30 Sito in, Contrada Magli, via Rue Morts San Vincenzo La Costa, Cosenza Prezzo base, 51.409 euro e 44 centesimi Vendita senza incanto, 13 giugno 2019, ore, 10 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 38 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottoressa Rosa Gargano, e-mail, rosannagarganochiocciolapiscoli.it, telefono, 3398040905 Tribunale di Cosenza, Esecuzioni Immobiliari, 75 fratto 2008, unico Villetta facente parte di un fabbricato quadri familiare, superficie commerciale metri quadri 154,30 oltre corte esclusiva, sub 2, di metri quadri 130, costituita da, piano interrato con zona adibita a tavernetta, soggiorno, cucina rustica e bagno, piano terra con ampio ambiente open space adibito a soggiorno pranzo, cucina, scala di collegamento tra i livelli, Piano primo con camera matrimoniale e due camere singole e bagno, attualmente occupati Garage al piano interrato di metri quadri catastali 60 Sito in, con trada campo sportivo Corso Italia Bisignano, Cosenza Prezzo base, 60.750 euro Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 11 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 40 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Avvocato Teresa Fotia, e-mail, studiolegalefotiachiocciolagmail.com, telefono, 0984408819 Tribunale di Cosenza, Esecuzioni Immobiliari, 227 fratto 2014, 1 Magazzino commerciale posto al piano terra del Palazzo Nigro, corpo A, costituito da unico locale open space della superficie commerciale di metri quadri 121,30 circa, superficie calpestabile metri quadri 109,80 circa, inoccupato Sito in, via Giuseppe Verdi Rende, Cosenza Prezzo base, 177.520 euro Vendita senza incanto, 14 giugno 2019, ore, 15 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 40 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Cosenza, Esecuzioni Immobiliari, 227 fratto 2014, 2 Magazzino commerciale posto al piano terra del Palazzo Nigro, corpo A, costituito da locale adibito ad esposizione, oltre doppia vc e due ripostigli, superficie commerciale metri quadri 124,40 circa, superficie calpestabile metri quadri 113 circa È presente in oltre locale soppalco basso, H1,86 int, occupato dal debitore Sito in, via Giuseppe Verdi Rende, Cosenza Prezzo base, 202.560 euro Vendita senza incanto, 14 giugno 2019, ore, 15 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 40 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Cosenza, esecuzioni Immobiliari, 12 fratto 2012, unico Appartamento in villetta a schiera dalla superficie commerciale interna, esclusi gli accessori, di circa Metri quadri 96,50 e corte esterna di metri quadri 119,48, posto al piano terra, composto da quattro vani oltre servizi Presenti di formità con gli elaborati progettuali Libero Sito in, via Martiri della Libertà Trav, Imarano Marchesato, Cosenza Prezzo base, 39.070 euro e 40 centesimi Vendita senza incanto, 27 maggio 2019, ore, 15 e 15 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 37 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottoressa Adriana Beggiamonte, email, abeggiamontechiocciolagmail.com, telefono, 335 6300 362 Tribunale di Cosenza, esecuzioni Immobiliari, 185 fratto 2007, 1 Box con annesso bagno e piccola corte anteriore, metri quadri 42 Sito in, spezzano piccolo, via Dante Alighieri Casali del Manco, Cosenza Prezzo base, 16.000 euro Vendita senza incanto, 25 giugno 2019, ore, 10 e 15 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 42 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Avvocato Alessandro Russo, email, avvocatirossochiocciolagmail.com, telefono, 3491970233 Tribunale di Cosenza, esecuzioni Immobiliari, 185 fratto 2007, 2 Appartamento con ingresso indipendente a piano terra, scala di accesso e corte esclusiva pavimentata, vani 7,5 Sito in, spezzano piccolo, via Dante Alighieri Casali del Manco, Cosenza Prezzo base, 84.000 euro Vendita senza incanto, 25 giugno 2019, ore, 10 e 15 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 43 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Avvocato Alessandro Russo, email, avvocatirossochiocciolagmail.com, telefono, 3491970233 Tribunale di Cosenza, esecuzioni Immobiliari, 161 fratto 2014, unico A. Abitazione a piano terra composta da ingresso, stanza, disimpegno, stanza, bagno, ripostiglio Barra lavatoio, barra wc Totale superficie interna calpestabile metri quadri 78,57 cui si aggiungono veranda, ex vano Scala, e locale deposito al piano seminterrato B. Abitazione a piano seminterrato composta da ingresso, ex vano Scala, soggiorno barra Cucina, due stanze, bagno, disimpegno, ripostiglio Totale superficie interna calpestabile metri quadri 80,77 Attualmente occupate Sito in, via Benedetto Croce Montalto Fugo, Cosenza Prezzo base, 69.615 euro Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 10.45 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.39 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottor Francesco Alberelli, e-mail, francesco.alberelli-libero.it, telefono, 347-768-5802 Tribunale di Cosenza, procedure concorsuali, 1743-38-1997, Wubis Lotto Wubis, magazzini destinati a deposito, adiacenti e comunicanti, con accesso da stradella privata, al piano terra di un fabbricato per civile abitazione, composti da due unici locali, serviti da piccolo bagno, consistenza catastale metri quadri 57 e metri quadri 44 Liberi Sito in, via Nicola Serra Cosenza Prezzo base, 25.650 euro Vendita senza incanto, 11 aprile 2019, ore, 12.12 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.41 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Avvocato Stefano Gottuso, email, stefano.gottusocchiocciolatiscoli.it, telefono, 098-448-1345 Tribunale di Cosenza, procedure concorsuali, 1743-38-1997, Wuter Lotto Wuter, magazzino destinato a deposito, al piano terra di un fabbricato per civile abitazione, composto da locale servito da piccolo bagno, consistenza catastale metri quadri 26 Libero Sito in, via Nicola Serra Cosenza Prezzo base, 8.133 euro ai 75 centesimi Vendita senza incanto, 11 aprile 2019, ore, 12.12 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.41 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Avvocato Stefano Gottuso, email, stefano.gottusocchiocciolatiscoli.it, telefono, 098-448-1345 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 43-2013, unico Fabbricato su tre livelli, piano sottostrada, sub 1, vani 5, di metri quadri 80,44 circa costituito da cucina soggiorno, ingresso disimpegno, bagno, camera, ripostino, locale deposito e legnaia, piano terra, sub 2, vani 3, a destinazione residenziale affiancato da magazzino garage di metri quadri 106,84 circa costituito da cucina, soggiorno Ingresso disimpegno, bagno, bagno oltre magazzino garage, piano primo, sub 3, vani 5,5, di metri quadri 79,62 circa costituito da camera, cucina, ingresso disimpegno Sito in, via del Salvatore Visignano, Cosenza Prezzo base, 51.474 euro e 3 centesimi Vendita senza incanto, 14 giugno 2019, ore, 9 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 42 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottor Giuseppe Giacomantoni E-mail, gius.giacomantoniocchiocciolallibero.it, telefono, 0984465550 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 309 fratto 2015, 2 Unità immobiliare in corso di definizione, sottotetto del tipo non abitabile, allo stato rustico, superficie esterna lorda metri quadri 129,77, diritto alla Corte Comune, sub 5, non oggetto di godimento in esclusiva Occupata Sito in, via Greco San Vincenzo La Costa, Cosenza Prezzo base, 12.409,25 euro Vendita senza incanto, 15 maggio 2019, ore, 9 e 15 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 43 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 309 fratto 2015, 1 Appartamento al piano primo di un edificio, superficie esterna lorda metri quadri 135,33, composto da ingresso disimpegno, ampia zona giorno con angolo cottura e balcone, disimpegno, camera matrimoniale con balcone, cameretta, bagno e ripostiglio, diritto alla Corte Comune, sub 5, non oggetto di godimento in esclusiva Occupato Sito in, via Greco San Vincenzo La Costa, Cosenza Prezzo base, 38.822,79 euro Vendita senza incanto, 15 maggio 2019, ore, 9 e 15 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 43 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 270 fratto 2010, unico Unità immobiliare uso ufficio al piano terra di un fabbricato a sei piani, composto da ampio vano con annesso locale adibito ad archivio e bagno con antibagno Superficie utile metri quadri 45 di cui metri quadri 24 soppalcati, detto soppalco adibito a studio Libero Sito in, piazza Giovanni XXIII, Cosenza Prezzo base, 72.000 euro Vendita senza incanto, 22 maggio 2019, ore, 11 e 20 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 44 Luogo della vendita Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottor Giulio Meringolo, e-mail, g.meringolo-chiocciola-studiomeringolo.it, telefono, 0984790226 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 4 fratto 2015, unico Abitazione su tre livelli oltre sottotetto non abitabile, parte di fabbricato a schiera, sub Compunto le metri quadri 208,78, composta da, portico, tavernetta e WC lavatoio al semi interrato, portico, ambiente unico, ingresso soggiorno pranzo angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e terrazzo al piano terra, disimpegno bagno, due camere, soggiorno e terrazzo al piano primo, locale di sgombero e WC al sottotetto non abitabile, area esterna di pertinenza di metri quadri 77,61. Attualmente occupata dagli esecutati. Sito in, Contrada Serra Miceli, Via Talete Castrolivero, Cosenza. Prezzo base, 92.544 euro. Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 44. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottoressa Paola Filice, e-mail, paolafilice17-gmail.com, telefono, 098426212. Tribunale di Cosenza, Esecuzioni Immobiliari, 281 fratto 2014, 1. Appartamento uso residenziale al piano terra, identificato in unica particella catastale assieme all'otto 2, superficie commerciale metri quadri 151, superficie utile calpestabile metri quadri 106, escluso balcone di metri quadri 17,50 e cantina comunicante di metri quadri 18,50, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due stanze da letto, due disimpegni, due bagni, cantina. A concessione come BNP occupato. Sito in, Pedace, località Lorica, via Cesare Curcio Casali del Manco, Cosenza. Prezzo base, 61.470 euro. Vendita senza incanto, 18 giugno 2019, ore, 10 e 30. Vendita. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 44. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Antonio Cianciulli, e-mail, studiocianciulli-chiocciolalibero.it, telefono, 3288-221739. Tribunale di Cosenza, Esecuzioni Immobiliari, 281 fratto 2014, 2. Appartamento barra mansarda al piano primo, identificato in unica particella catastale assieme all'otto 1, superficie commerciale metri quadri 65,20, superficie utile calpestabile metri quadri 62,60, escluso balcone di metri quadri 4,80, accesso da scala in ferro esterna, completamente rustico, diviso in quattro stanze e bagno più zona sottotetto. Sito in, Pedace, località Lorica, via Cesare Curcio Casali del Manco, Cosenza. Prezzo base, 21.150 euro. Vendita senza incanto, 18 giugno 2019, ore, 10 e 30. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 44. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Antonio Cianciulli, e-mail, studiocianciulli-chiocciolalibero.it, telefono, 3288-221739. Tribunale di Cosenza, Esecuzioni Immobiliari, 129 fratto 2017, unico. Unità immobiliare in corso di costruzioni posta al piano terra, della superficie di metri quadri 105 circa, facente parte di fabbricato parzialmente in fase di completamento, categoria in corso di costruzione. Presenta abusi edilizi sanabili. L'immobile è adiacente all'unità sub 4 e attualmente non è stata realizzata la muratura di separazione tra le due unità immobiliari. Sito in, via Sant'Antonello Montalto Fugo, Cosenza. Prezzo base, 62.475 euro. Vendita senza incanto, 11 giugno 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.51. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio Dottor Stefania Lanzillotti, e-mail, antecosenza-virgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 217 fratto 2015, unico. Immobile di superficie commerciale metri quadri 887,02, costituito da, a. Corte, sub 4, di metri quadri 476, b. Magazzino al piano terra, metri quadri 24,70, c. Atrio con vano scala al piano terra, metri quadri 31,61, di, appartamento al piano primo, metri quadri 338,71, composto da soggiorno pranzo, cucina, due bagni, quattro stanze da letto, ripostiglio, disimpegno, vano scala, balcone, e, soffitta al piano secondo, in corso di definizione, non accatastata, metri quadri 16, occupato dal debitore esecutato o da terze. Sito in, località Pozzonara, via Cicala San Vincenzo la Costa, Cosenza. Prezzo base, 148.895,67 euro. Vendita senza incanto, 13 giugno 2019, ore, 15 e 30. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 53. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Cosimo Capparelli, e-mail, cosimocapparelli74chiocciolallibero.it, telefono, 0984443900. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 222 fratto 2012, unico. Appartamento posto al piano terzo di un fabbricato, superficie catastale metri quadri 114. Attualmente occupato. Sito in, via Giuseppe Marini Serra Cosenza. Prezzo base, 35.000 euro. Vendita senza incanto, 13 giugno 2019, ore, 15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 53. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottoressa Pasqualina Colucci, e-mail, coluccipasqualinachiocciolaiau.it, telefono, 0984507340. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 115 fratto 2008, 2. Locale box posto al piano primo sottostrada di superficie calpestabile pari a metri quadri 92 circa. Lidero. Sito in, via Verdi Rende, Cosenza. Prezzo base, 46.240 euro. Vendita senza incanto, 11 giugno 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 46. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio Dottor Stefania Lanzillotti, e-mail, ampeccosenzachiocciolavergilio.it, telefono, 09844408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 115 fratto 2008, 3. Locale box posto al piano primo sottostrada di superficie calpestabile pari a metri quadri 60 circa. Libero. Sito in, via Verdi Rende, Cosenza. Prezzo base, 28.178 euro. Vendita senza incanto, 11 giugno 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 46. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio Dottor Stefania Lanzillotti, e-mail, ampeccosenzachiocciolavergilio.it, telefono, 09844408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 115 fratto 2008, 1. A. Appartamento al piano sesto di fabbricato per civile abitazione, composto da ingresso, soggiorno, 5 camere letto, camera palestra, cucina con ripostigli, 6 bagni, 3 disimpegni con due ripostigli per una superficie commerciale di metri quadri 342,30 circa cui si aggiungono 46,75 metri quadri di balconi. B. Locale deposito non abitabile posto al piano settimo, comunicante con l'appartamento, composto da cucina con ripostiglio, zona pranzo, bagno, disimpegno, angolo studio con soggiorno e cammino, superficie calpestabile metri quadri 122,60 circa cui si aggiungono metri quadri 65,20 circa di terrazzo. Occupati. Sito in, Via Verdi Rende, Cosenza. Prezzo base, 489.133 euro. Vendita senza incanto, 11 giugno 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.45. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Stefania Lanzillotti, e-mail, antecosenza-virgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 115 fratto 2008, 4. Locale magazzino posto al piano terra di superficie calpestabile pari a metri quadri 268 circa. Occupato con contratto di locazione stipulato con il custode con clausola di caducazione all'esito dell'aggiudicazione. Sito in, Via Verdi Rende, Cosenza. Prezzo base, 203.023 euro. Vendita senza incanto, 11 giugno 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 47. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Stefania Lanzillotti, e-mail, antecosenza-virgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 115 fratto 2008, 5. Locale magazzino al piano terra, di superficie calpestabile pari a metri quadri 323 circa. Limeo. Sito in, Via Verdi Rende, Cosenza. Prezzo base, 311.398 euro. Vendita senza incanto, 11 giugno 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 48. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Stefania Lanzillotti, e-mail, antecosenza-virgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 115 fratto 2008, 9. Locale adibito ad attività commerciale di bar barra pasticceria posto al piano terra, superficie calpestabile metri quadri 82,70 circa. Occupato in assenza di titolo opponibile alla procedura. Sito in, Via Provinciale Cosenza. Prezzo base, 92.119 euro. Vendita senza incanto, 11 giugno 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 48. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Stefania Lanzillotti, e-mail, antecosenza-virgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 115 fratto 2008, 6. Locale magazzino adibito ad attività commerciale di ristorazione, posto al piano terra, ingresso sul fronte opposto di Via De Amicis, superficie calpestabile metri quadri 651 circa. Occupato in assenza di titolo opponibile alla procedura. Sito in, Via Verdi Rende, Cosenza. Prezzo base, 614.848 euro. Vendita senza incanto, 11 giugno 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 48. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Stefania Lanzillotti, e-mail, antecosenza-virgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 115 fratto 2008, 11. Locale magazzino posto al piano semi-interrato, interno 4, superficie metri quadri 412 circa. Libero. Sito in, Contrada Casino Mollo Cosenza. Prezzo base, 178.602 euro. Vendita senza incanto, 11 giugno 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 48. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Stefania Lanzillotti, e-mail, antecosenza-virgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 115 fratto 2008, 8. Appartamento posto al sesto piano, composto da, ingresso, ampio soggiorno con cammino, 4 camere da letto, cucina, 3 bagni, disimpegni e camera con botola di collegamento alla soffitta, superficie calpestabile metri quadri 254 circa a cui si aggiungono metri quadri 39 circa di balconi, con annessa soffitta al settimo piano di metri quadri 28 circa con terrazzo coperto di metri quadri 59 circa e terrazzo scoperto di metri quadri 64 circa. Occupato in assenza di titolo opponibile alla procedura esecutiva. Sito in, piazza Bonaventura Zumbini Cosenza. Prezzo base, 284.750 euro. Vendita senza incanto, 11 giugno 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 49. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Stefania Lanzillotti, e-mail, antecosenza-virgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 147 fratto 1987, 2. Locale Tavernetta di metri quadri 189,10 circa, consistenza 181 metri quadri. È stata disposta liberazione. Sito in, località Croce di Magara di Camigliatello Silano Ex Comune di Spezzano Piccolo Casali del Manco, Cosenza. Prezzo base, 12.445 euro. Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 55. Luogo della vendita. Per informazioni, chiamare il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Pietro Calvano, e-mail, pietrocalvano-hotmail.it, telefono, 0984395132. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 147 fratto 1987, 1. Sala ristorante di metri quadri, 538. Cucina e servizi di metri quadri, 125. Terrazzi e atrio di metri quadri, 75. Oltre area parcheggio di metri quadri, 500. Con una servitù di passaggio per accedere dalla scala esterna all'appartamento sito al piano primo. Magazzino barra deposito di metri quadri, 281,50 circa, consistenza 276 metri quadri. Magazzino barra deposito di metri quadri, 78,40 circa, consistenza 75 metri quadri. Garage box di metri quadri, 19,50 circa, consistenza metri quadri 20. È stata disposta liberazione degli immobili. sito in, località Croce di Magara di Camigliatello Silano ex comuni di Spezzano piccolo Casali del Manco, Cosenza. Prezzo base, 96.261 euro. Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.55. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Pietro Calvano, e-mail, pietrocalvanochiocciolahotmail.it, telefono, 0984395132. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 147 fratto 1987, 3. Locale deposito di metri quadri 98,20 circa, consistenza 98 metri quadri. È stata disposta liberazione. Sito in, località Croce di Magara di Camigliatello Silano ex comuni di Spezzano piccolo Casali del Manco, Cosenza. Prezzo base, 6.106 euro. Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.56. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Pietro Calvano, e-mail, pietrocalvanochiocciolahotmail.it, telefono, 0984395132. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 147 fratto 1987, 4. Appartamento di metri quadri 214,90 circa, oltre di postiglio di metri quadri 46,70 e terrazzo di metri quadri 59,20, oltre all'ingresso dal portone principale, a diritto di servitù per l'esistenza di una scala esterna chiocciola nel parcheggio ristorante. Box garage di metri quadri 24 circa, consistenza di metri quadri 18. È stata disposta liberazione degli immobili. Sito in, località Croce di Magara di Camigliatello Silano Ex Comuni di Spezzano Piccolo Casali del Manco, Cosenza. Prezzo base, 23.004 euro. Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.56. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Pietro Calvano, email, pietrocalvanochiocciolahotmail.it, telefono, 0984395132. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 147 fratto 1987, 6. Terreni complessivi metri quadri 8070. Liberi. Sito in, località Croce di Magara Ex Comuni di Spezzano Piccolo Casali del Manco, Cosenza. Prezzo base, 14.759 euro. Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.57. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Pietro Calvano, email, pietrocalvanochiocciolahotmail.it, telefono, 0984395132. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 147 fratto 1987, 5. Terreni di complessivi metri quadri 15.340 circa. Il terreno di cui alla particella 622 è sottoposto a vincolo, pista da sci, da parte della comunità montana Silana. Liberi. Sito in, località Ventricelle Ex Comuni di Spezzano Piccolo Casali del Manco, Cosenza. Prezzo base, 1410 euro. Vendita senza incanto, 14 maggio 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.57. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Pietro Calvano, email, pietrocalvanochiocciolahotmail.it, telefono, 0984395132. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 163 fratto 2016, unico. Edificio ad uso residenziale su due piani FT oltre sottotetto, collegati internamente da scala, superficie commerciale totale metri quadri 290, composto da, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno, cantina barra intercapedine al piano terra, camera da letto singola, due camere da letto matrimoniale, intercapedine al piano primo, piano sottotetto allo stato rustico. Occupato dal debitore senza titolo opponibile all'acquirente. Sito in, oggi comune di Casali del Manco, via Dante Alighieri spezzano piccolo, Cosenza. Prezzo base, 121489 euro. Vendita senza incanto, 14 giugno 2019, ore, 15 e 15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Francesco Pellegrino, e-mail, dr.pellegrino-tiscoli.it, telefono, 3392634743 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 81 fratto 2015, unico. Unità immobiliare, metri quadri, 127 escluse le aree scoperte. Il piano semi-interrato S1 si presenta finito in tutto il suo interno, rimane a rustico la parete esterna lato sud, assenza di intonaco di finitura. Occupato. Sito in, Contrada Soverano Visignano, Cosenza. Prezzo base, 34.000 euro. Vendita senza incanto, 20 giugno 2019, ore, 15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13.1. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Patrizia Corrado, email, av.patriziacorrado.gmail.com, telefono, 3278312286 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 141 fratto 2015, 1. Appartamento al piano terra di un fabbricato in muratura, composto da ingresso, 2 WC, cucina, ampia sala da pranzo, 3 stanze da letto, locale deposito e garage. Locale laboratorio al piano terra, Kent. C barra 3. Le due unità costituiscono, di fatto, un unico appartamento. Superficie lorda complessiva metri quadri 190,09 circa oltre metri quadri 145,90 di corte ad uso esclusivo. Occupato. Sito in, Contrada Squarcio Bisignano, Cosenza. Prezzo base, 98.836,26 euro. Centesimi. Vendita senza incanto, 20 giugno 2019, ore, 9 e 30. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 2. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Fabio De Buono, e-mail, fabiodebuonochiocciola gmail.com, telefono, 347 350 1630. Tribunale di Cosenza, Esecuzioni Immobiliari, 141 fratto 2015, 2. Locali deposito e magazzino al piano terra e primo di un fabbricato con struttura portante in telaiata in acciaio, composti al piano terra da area produzione, ufficio, bagno, deposito e due tettoie, al piano primo da due uffici, bagno e locale deposito. Superficie lorda metri quadri 983,86 circa oltre metri quadri 900,64 di corte ad uso esclusivo e metri quadri 151,91 di tettoie. Attualmente locato. Sito in, con trada squarcio bisignano, Cosenza. Prezzo base, 239 846 euro e 66 centesimi. Vendita senza incanto, 20 giugno 2019, ore, 9. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 2. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Fabio De Buono, e-mail, fabiodebuonocchiocciola gmail.com, telefono, 347 350 1630 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 135 fratto 1997, unico Unità immobiliare adibita a civile abitazione al piano secondo di fabbricato a quattro piani FT, superficie netta metri quadri 123,60 circa, distribuita in cucina, soggiorno, due camere, corridoio e accessori. Occupata. Sito in, via San Francesco Spezzano della Silla, Cosenza. Prezzo base, 21.888 euro. Vendita senza incanto, 16 maggio 2019, ore, 16 e 15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 4. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Leucio Gisonna, e-mail, ampecosenza-virgilio.it, telefono, 0984408479 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 15 fratto 2008, 1. Piena proprietà di terreno esteso complessivamente metri quadri 429.505 circa. Sito in, località Serralonga San Giovanni in Fiore, Cosenza. Prezzo base, 169.907 euro. Vendita senza incanto, 16 maggio 2019, ore, 16 e 15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 8. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Maria Gisonna, e-mail, ampecosenza-virgilio.it, telefono, 0984408479 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 15 fratto 2008, 2. Piena proprietà di terreno esteso complessivamente metri quadri 282.270 circa. Sito in, località Serralonga San Giovanni in Fiore, Cosenza. Prezzo base, 168.675 euro. Vendita senza incanto, 16 maggio 2019, ore, 16 e 15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 8. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Maria Gisonna, e-mail, antecosenza-virgilio.it, telefono, 0984408479 Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 15 fratto 2008, 3. Piena proprietà di terreno esteso complessivamente metri quadri 414.570 circa. Sito in, località Serralonga San Giovanni in Fiore, Cosenza. Prezzo base, 166.766 euro. Vendita senza incanto, 16 maggio 2019, ore, 16 e 15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 9. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Maria Gisonna, e-mail, antecosenza-virgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 237 fratto 2016, 1. Appartamento al piano primo, superficie catastale metri quadri 189. Locale magazzino annesso al piano semi-interrato, consistenza metri quadri 13. Sito in, via San Francesco San Pietro in Guarano, Cosenza. Prezzo base, 76.500 euro. Vendita senza incanto, 18 giugno 2019, ore, 11. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 9. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Giuseppe Cammalleri, e-mail, cammalleristudio-chioccio-latin.it, telefono, 0984390390. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 19 fratto 2015, unico. Appartamento ad uso ufficio posto al secondo piano di una struttura edilizia con complesso multisala e locali commerciali ed uffici. Libero. Sito in, località Malavicina, via Beato Francesco Marino Zumpano, Cosenza. Prezzo base, 53.790 euro. Vendita senza incanto, 18 giugno 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 9. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio Dottor Luigi De Santis, e-mail, ante cosenza-chiocciola-vergilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 31 fratto 2018, unico. Immobile A3, piani T1-2 con ulteriori accessi in corrispondenza dei civici 20, 22 e 24. Garage al piano terra, metri quadri 18. Immobili occupati dal debitore e familiari. Sito in, via Giacomo Matteotti Zumpano, Cosenza. Prezzo base, 118.500 euro. Vendita senza incanto, 25 giugno 2019, ore, 9. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 9. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Stefano Gargano, e-mail, stefano.gargano-libero.it, telefono, 098429161. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 129 fratto 2016, unico. Diritti pari alla piena nuda proprietà di appartamento in villa composto da quattro stanze, ingresso, cucina, soggiorno, due bagni, due ripostigli, tre balconi oltre corridoio e vano scala al primo piano e quattro camere, cucina soggiorno, due bagni e due ripostigli al secondo piano. Superficie lorda complessiva a metri quadri 481,20 circa oltre balconi di metri quadri 59 circa. Occupato. Sito in, via San Francesco di Paola Santo Stefano di Rognano, Cosenza. Prezzo base, 192.142 euro. Vendita senza incanto, 18 giugno 2019, ore, 13. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13.10. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 121 fratto 2016, unico. Appartamento al piano primo di un fabbricato a sette piani Ft mai ristrutturato, superficie lorda abitazione metri quadri 121, superficie lorda complessiva incluso balconi e terrazza metri quadri 169, composto da ingresso, due bagni, corridoio, cucina, soggiorno, due camere da letto. Attualmente occupato sa in titolo dal nucleo familiare della debitrice. Sito in, via Monte Baldo Cosenza. Prezzo base, 139.740 euro. Vendita senza incanto, 20 giugno 2019, ore, 15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13.11. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Massimiliano Carnovali, e-mail, avcarnovalechiocciolagmail.com, telefono, 0984392634. Tribunale di Cosenza, Esecuzioni Immobiliari, 341 fratto 2014, 1. Unità Immobiliare Piano T1-2, Vane 10, meglio descritta nella relazione di stima in atti. Sito in, via Palazzo Rovito, Cosenza. Prezzo base, 70.000 euro. Vendita senza incanto, 19 giugno 2019, ore, 10. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13.10. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Ritabarbieri, e-mail, av.ritabarbieri89chiocciolalibero.it, telefono, 3275325151. Tribunale di Cosenza, Esecuzioni Immobiliari, 164 fratto 2013, unico. Unità Immobiliare consistente in un lotto di terreno di metri quadri 1610 con annesso fabbricato allo stato russico composto da, piano terra, destinazione residenziale, con superficie commerciale metri quadri 135,12, primo piano mansardato, destinazione residenziale, con superficie commerciale metri quadri 130,35, piano seminterrato, destinazione garage, con superficie commerciale metri quadri 152,23. Sito in, via Avibo Valencia Visignano, Cosenza. Prezzo base, 70.176,12 euro. Vendita senza incanto, 26 giugno 2019, ore, 9.15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 12. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottoressa Linda Marano, e-mail, studiolindamaranochiocciolagmail.com, telefono, 0984394813. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 231 fratto 2016, unico. Locale commerciale al piano terra di un fabbricato di maggiore consistenza, composto da zona commerciale e da un retro con due bagni, di cui uno ricavato in un vano sotto scala. Superficie calpestabile metri quadri 70,15. Libero. Sito in, via Savotani Cerisano, Cosenza. Prezzo base, 39.600 euro. Vendita senza incanto, 25 giugno 2019, ore, 11. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 12. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Lucia Boellis, e-mail, lucia.boellischiocciolagmail.com, telefono, 0984837650. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 70 fratto 2003, 1. Terreni di complessivi metri quadri 7835 circa. Sito in, con trada Chianette Acri, Cosenza. Prezzo base, 7.464 euro. Vendita senza incanto, 25 giugno 2019, ore, 12 e 30. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 12. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Stefano Camilleri, e-mail, antecosenzachiocciolavirgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 70 fratto 2003, 2. Locale magazzino, piano T, metri quadri 309 circa. Occupato. Sito in, con trada Chianette Acri, Cosenza. Prezzo base, 498.102 euro. Vendita senza incanto, 25 giugno 2019, ore, 12 e 30. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 14. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Stefano Camilleri, e-mail, antecosenza chiocciolavirgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 70 fratto 2003, 3. Mansar dal rustico al piano sottotetto, metri quadri 309 circa. Occupato. Sito in, con trada Chianette Acri, Cosenza. Prezzo base, 96.506 euro. Vendita senza incanto, 25 giugno 2019, ore, 12 e 30. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 14. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Stefano Camilleri, e-mail, antecosenza chiocciolavirgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 142 fratto 1991, 1. Appezzamento di terreno esteso complessivamente metri quadri 292914, con entrostanti quattro capannoni, non accatastati con struttura in acciaio, ciascuno della superficie lorda complessiva di circa metri quadri 1300. Sull'intera zona grava un vincolo archeologico, risulta presente la condotta dell'acquedotto dell'abate Marco. Liberi e nella disponibilità del custode giudiziario. Sito in, Contrada Castiglione Torano Castello, Cosenza. Prezzo base, 424.255 euro. Vendita senza incanto, 24 maggio 2019, ore, 16 e 15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 11. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Anna Calvelli, e-mail, ante cosenza chiocciola virgilio punto it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 142 fratto 1991, 2. Appezzamento di terreno esteso complessivamente metri quadri 329.650, ricadente in zona e agricola con entrostanti quattro capannoni, non accatastati con struttura in ciapi, copertura in cemento amianto, ciascuno della superficie lorda complessiva di circa metri quadri 1.400. Sull'intera zona grava un vincolo archeologico, risulta presente la condotta dell'acquedotto dell'abate Marco. Risulta presente cava inattiva. Libria nella disponibilità del custode giudiziario. Sito in, Contrada Castiglione Torano Castello, Cosenza. Prezzo base, 496.960 euro. Vendita senza incanto, 24 maggio 2019, ore, 16 e 15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 13 e 12. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio dottor Anno Calvelli, e-mail, ante cosenza chiocciola virgilio.it, telefono, 0984408479. Tribunale di Cosenza, esecuzioni immobiliari, 59 fratto 2009, unico. Appezzamento di terreno costituito da due particelle di rispettivi metri quadri 34.025 e 3.035, ubicato in zona di tipo rurale, a 6 km circa dal centro del comune, a 13 km circa dallo svincolo autostradale, riportato in zona ambito agricolo ad alta produttività a TAF 4. Coltivato ed utilizzato dal debitore. Sito in, località Grisafaro Giano Gravina, Cosenza. Prezzo base, 35.840 euro. Vendita senza incanto, 15 maggio 2019, ore, 15. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12 e 38. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Mario Cauteruccio, e-mail, mariocauterucciochiocciola gmail.com, telefono, 0984411779 Tribunale di Cosenza, Esecuzioni Immobiliari, 27 fratto 2015, 1. Appartamento uso ufficio posto al piano secondo, interno 9, del complesso commerciale River Village, superficie catastale commerciale complessiva metri quadri 148, composta da metri quadri 140,28 di superficie dei vani principali e metri quadri 82,01 di superficie terrazzo. In mancanza delle tramezzature di divisione dei vani, l'appartamento si presenta come unico ambiente, le sole tramezzature presenti delimitano lo spazio del servizio igienico e dell'antibagno. Libro. Sito in, località Malavicina, via Beato Francesco Marino Zumpano, Cosenza. Prezzo base, 85.255 euro. Vendita senza incanto, 27 maggio 2019, ore, 10. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 12.26. Luogo della vendita. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottoressa Emanuela Iaccino, e-mail, emanguela.iaccino-alice.it, telefono, 0984482240.